Secondo giorno di chiusura per la struttura mercatale d'ortofrutticola di Sant'Egidio del Monte Albino. Dopo la visita dei carabinieri del NAS e degli ispettori dell'ASRA alla struttura, il comune di Sant'Egidio tramite la Gori ha provveduto questa mattina all'installazione dei contatori per l'acqua potabile. Una situazione diventata insostenibile per i circa 25 concessionari che sono all'interno del mercato di via nazionale. La visita dei carabinieri ha avuto esito positivo, ricordiamo infatti che già nel mese di gennaio la Gori aveva provveduto all'installazione della nuova tubatura per l'acqua potabile, ma da allora nulla era stato più fatto, costringendo i proprietari degli stand ad approvvigionarsi dal pozzo esistente. Stamattina i contatori per i concessionari e l'acqua che è tornata a scorrere potabile, nel pomeriggio dovrebbe esserci di nuovo la visita dei NAS e il placet per l'apertura nella giornata di domani, mentre nei prossimi 30 giorni i concessionari dovranno adeguare gli stand alle normative vigenti con la costruzione di spogliatoi per i dipendenti.